Salve. Ciao. Chi sei? Mi chiamo Adel. Da dove vieni? Roma Sud. Roma Sud, figo. E Adel, cosa farai stasera? Vi volevo fare prima una domanda. A differenza degli altri concorrenti che si sono esibiti prima di me, qual è la prima cosa che notate? Ecco, non lo sapevo. Siete razzisti? No. No, 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 ma non vi preoccupate. Tanto io sono già abituato. Già dai tempi dell'asilo, quando andavo a scuola, la maestra, per farci stare buoni, ci diceva se non fate i bravi stasera viene l'uomo nero. E io me la prendevo sul personale. Andavo dalla maestra a brutto muso e gli facevo scusi. Ma mo' che c'entra mi padre? E tutti gli altri compagni da classe? Sì, c'ha ragione. E il figlio dell'uomo nero c'ha ragione. Il problema è che mi fanno tutti la stessa battuta. Sei italiano e nero. Ma lo sai che sembri il figlio di Carlo Conti? Infatti, spesso, vengo scambiato per ciò che non sono. Vi faccio un esempio. Alle bancarelle, ok? Che appena mi fermo a vedere la maglietta, arriva la classica signora anziana e mi fa, scusa capo, quanta fa questa? Perché per voi, io non posso essere un semplice cliente in un locale. Dal che babbaro, so il marocchino che ti ha affetta. In pizzeria, so l'egiziano che ti fa la pizza. In bici, so l'indiano che ti ha la porta. E davanti al negozio d'orto frutticola, so il bangla che ci lavora. E invece no, io su una cosa sono proprio come voi. Anzi, come la maggior parte dei giovani italiani. So disoccupato! Vabbè, vi dico la verità. Ci sono aspetti positivi anche in questo. Vi faccio un esempio. Se io prendo la metro e la metro è piena, io ho un metodo per entrare, ce l'ho sempre. Mi fermo davanti alle porte e faccio... Alla prossima scendo! Vuota! Non c'è più nessuno! Ho voluto parlare di questa tematica perché ultimamente ci sono un po' di conflitti sociali. Quindi sono venuto qua a ribadire il fatto che siamo tutti uguali. Ma non c'è pezzo proprio! Ci insultate, ci discriminate, ci allontanate e poi mi devo sentire di... Eh no, ma in fondo siamo tutti uguali! Eh no, è troppo facile così! Ma fate caso al prossimo che entra! Allora, Mara, a me sei molto piaciuto, mi hai divertito. Hai detto delle cose che mi hanno così, mi hai fatto divertire, mi sei piaciuto. L'ho detto già prima e sono un po' rincolumita. Basta, non devo dire altro. Fede? Sì, Adela, anche a me hai divertito molto. Si vedeva che eri un po' emozionato all'inizio, però penso sia il primo palco importante per te questo. Complimenti, complimenti! Io sono un po' nuovo qui e fare il comico per me è forse la cosa più difficile e tu sei stato bravo perché hai affrontato i temi molto, anche abbastanza pesanti, con una certa intelligenza e autoironia, che è molto molto difficile a farlo bene. Ti è stato bravo. Grazie. Adel, secondo me sei assolutamente un talento, alcune battute che hai scritto sono fighissime, la mia preferita era quella di quando si svuota la metro, giusto? Secondo me hai assolutamente un futuro in questo mestiere, sei la persona giusta nel momento giusto, avevamo bisogno di te. Grazie. Votiamo, Mara Maiunchi. Un mio confuso sì. Grazie. Perché confuso sì? Perché non ne ho detta una giusta quando ho parlato di lui. Federica Pellegrini. Per me è un sicurissimo sì. Grazie. Joe. Per me è un sì di investimento perché devi ancora lavorare tanto ma sei stato molto bravo e come ha detto Frank tu sei la persona giusta nel momento giusto. E allora sono quattro sì. Grazie. Alla prossima. Grazie. Bravo, mi è piaciuto. È difficile giudicare però un comico così che alla fine prende per una situazione reale. In Italia alcune persone, tipo mia nonna, pensa davvero che questi sono tutti attentatori. Quindi il fatto che lui ci scherzi così sopra fa capire alla gente. Non sappiamo che ci prendete in giro per questa cosa, però secondo me è importante che lui lo dica. Grazie. Grazie. Grazie per la visione!